Dave seguimi andiamo a trovare un grande sposo Permesso 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 Stiamo quasi arrivando lo sto trovando Guarda Dave l'ho trovato Eccolo qua lo sposo Vieni 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 io Eccoci qua al convento di Nonato con lo sposo Lo sposo ospite qui al convento il venerdì notte village Il tuo nome? Maurizio So che ti sposi giusto? Eh si Oh loro non hanno fatto una figura Bene 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 da dove vieni? Limone Limone nel Garda Vicino a Riva? Vicino a Riva Bravissimo Ti sposi quando? Fine gennaio Forse fine gennaio con? Anna Allora dimmi subito come hai fatto a convincerla a sposarti Eh è una lunga storia È una lunghissima storia? Lunghissima Che racconteremo nel prossimo episodio? Sì 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 Nella prossima intervista Ah in prossima intervista Allora mandagli un bacio e prometteli che farai il bravo Ok? Bravissimo Vai Salutala Ciao 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 Grazie a tutti